Episodi delle sacre scritture, figure di santi appartenenti alla tradizione popolare, protettori delle più disparate professioni. Sono le litografie proposte nella mostra La Stamperia a Verdoni, fabbricanti di immagini nella Torino dell'Ottocento, in biblioteca fino al 5 giugno. Chi dal 500 al 700 ha tema sindonico, ex voto originali e riproduzioni fotografiche di tavole votive. Sono esposti alla Biblioteca Nazionale fino al 27 giugno nella mostra Ex Voto e Sindone, promossa dal Consiglio regionale con l'Università di Turino. Fino al 30 giugno a Palazzo Lascaris è allestita la mostra Ritratto di una terra, emozioni e paesaggi del Piemonte, promossa dal Consiglio regionale. L'esposizione racconta l'emozione che i paesaggi piemontesi hanno saputo suscitare nei viaggiatori nel corso dei secoli.